Lei come definirebbe il terrorismo? L'attuale definizione è individuo o gruppo che usa la violenza per raggiungere un obiettivo politico. Il governo ritiene che i cartelli della droga rientrino in questa definizione. Volete arrivare fino in fondo? Allora dovrò... sporcarmi. Ti lasciamo libero. Quanto libero? Nessuna regola. Se vuoi iniziare una guerra, rapisci un principe. Il re la inizierà per te. Io lo so chi sei. Sei l'avvocato a cui hanno ucciso la famiglia. Non hanno. Mio padre. E adesso vuoi la tua vendetta. Adios. Mi aiuterai a scatenare una guerra. Contro chi? Tutti. Mi aiuterai a scatenare una guerra. Mi aiuterai a scatenare una guerra.